Gli affari illeciti della mafia anche nel parco dell'Etna. È uno degli aspetti emersi dalla confisca di beni per 3 milioni di euro eseguita dalla DIA di Catania all'imprenditore Antonino Schack, già condannato per associazione mafiosa. La discarica abusiva di rifiuti speciali e inerti è stata realizzata e gestita proprio all'interno del parco. Dalle indagini è emersa anche una fiorente attività estrattiva abusiva di materiale vulcanico in una zona sottoposta a vincolo ambientale. La titolare dell'impresa, una donna, è stata denunciata dal corpo forestale e l'area di circa 400 metri quadrati dove veniva scaricato il materiale di risulta è stata sequestrata.